ecco buonasera buonasera siamo qui con l'Avvocato Bertaggia io sono Gustavo Strifignano come ci conoscete già anche dai video anche dai video effettivamente vorremmo oggi proporvi una serie di domande che i clienti ovviamente di solito hanno per noi le farò io all'Avvocato domande che sentiamo dai nostri clienti appunto vorremmo approfittare dell'opportunità per trasmettere risposte a tutti voi quindi quantomeno delle domande più frequenti e quelle che trovano anche le risposte più frequenti e più scontate da un certo punto di vista ma sembra che non lo siano mai sufficientemente per le persone perché il nostro scopo non è quello di fare propaganda è quello di fare informazione informazione in ambito societario estero ovviamente tutela patrimoniale quello di cui stiamo parlando adesso deve sfrattare tantissimi falsi miti che circolano in questa materia che sono veramente numerosissimi ed è giusto che le persone conoscano la realtà delle cose anche per poter fare delle scelte reali consapevoli e soprattutto intelligenti evitando quindi di cadere nelle mani di personaggi che molto probabilmente approfittano poi della buona fede o dell'esperienza del cliente per procurarvi ahimè dei danni a loro e vantaggio per loro proprio così così faremo nelle prossime domande quindi state attenti che arrivano tutte quante energetico anche per loro è che è veramente un po' più ma